Ehi, per favore! Sarò qua giù, sono incastrato! Ci sarà una carnificina! Ehi, ehi, ferma l'autobus! Ditegli di fermarsi! Ma ci vuole fermare? Wow, accidenti che riflessi! Grazie! Non c'è problema! Smettiamo di fissarla o la cosa diventa molesta! Troppo tardi! Ci siete due sfigati! È stato il morso di un ragno? Lo voglio pure io! Scommetto che fa male, vero? Non mi importa, anche se fa male mi farei mordere! Forse! Quanto fa male? Il ragno è morto, Ned! Cosa? No! Ciao ragazzino! Io voglio uccidere quei ragni, insieme! Non gli daremo scappo! Che è vero! Andiamo a casa di ragni! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Grazie a tutti. Grazie a tutti.